ciao ciao da me vi è gonzo come al solito e ho messo una nuova innovazione nei world drug farò un video per ogni livello perché ho molto tempo per registrare cioè per caricare i video quindi è meglio che faccia così però così è meglio perché tramite playlist avrete una scorribilità tutto il gioco completo scusate se non prenderemo la gemma in questo livello cioè la prenderemo però non prenderemo il cristallo perché appunto ho avuto dei problemi ho dovuto cancellare il video che oggi è fatto e avevo salvato i progressi sempre il capitolo che stiamo facendo io l'ho già fatto ma sbaglio ma lo rifarò e non userò il potere quindi non vi svelo la sorpresa buboga quindi in pratica se avete capito bene alla fine di questo video di questa missione farò un altro video un altro video bam 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 ok perfetto è una vita in più siamo a 40 vite ah si giusto la gemma l'ho già presa quindi non devo prendere niente me lo ho già detto ciao